Fabergé presenta Adriano Panatta, il suo stile, i suoi gusti, il deodorante Brut 33, la sua voglia di giocare, la sua voglia di vivere che gli ha fatto scegliere l'inimitabile freschezza di Brut 33. Eh sì, quando faccio qualcosa, ti piace farlo bene, il deodorante? Brut 33, con il profumo di Brut, il profumo famoso nel mondo.